Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Termevigliatore, Giovanni Zanghi, e il Movimento 5-6 non fanno più parte del gruppo di maggioranza Volare Alto. Resta nella carica di secondo rappresentante dell'Assemblea Cittadina, ma si è proclamato indipendente. Nel proporre l'avvio di una fase nuova, dove non ci siano maggioranze e opposizioni variabili, Zanghi ha evidenziato che il sindaco Domenico Munafo ha intrapreso una strada diversa da quella da noi auspicata e consigliata. In avanti, con la nomina dell'ennesima giunta tecnica, si è evidenziata l'impossibilità di trovare un'intesa politica tra le forze della maggioranza elette nelle ultime consultazioni. Il gruppo a sostegno del sindaco, dopo Domenico Femminò, ha perso pertanto un altro tassello. Visti gli ultimi sviluppi con la nomina del nuovo esecutivo, a livello politico è evidente che c'è qualcosa che non va. Si era capito già dall'inizio della nuova legislatura, ma nessuno avrebbe mai potuto credere che dopo una vittoria schiacciante si potesse arrivare a questo punto. Zanghi e il Movimento 5-6, nel ringraziare l'ex assessore Anna Elisa Inbesi, ha ribadito che ad adesso vuole votare senza vincoli di appartenenza perché non si riconosce più nel gruppo Volare Alto. Ha auspicato un nuovo corso politico dove ci siano amministratori che lavorano insieme per la collettività. Al momento questa è la geografia in Consiglio Comunale. Il gruppo di maggioranza Volare Alto è composto dai consiglieri Daniele Biondo, Stella Giunta, Domenico Genovese. Al suo interno c'è anche il gruppo dei moderati con l'onorevole Calderone, costituitosi alla fine del mese di gennaio, del quale fanno parte Emanuela Ferrara, Fabio Valenti, anche l'ex consigliere indipendente Franco Canduci e infine Florinda Ducci. Sono indipendenti Domenico Feminò e da ieri Giovanni Zanghi, completano i ranghi tre consiglieri di opposizione del gruppo Nuova Rinascita, il capogruppo Angelo Sottile e poi Maria Rita Calabrò e Davide Abbate.